Pasolini, perché in quegli anni lui nel 43 a 21 anni, quindi è un giovanissimo studente universitario, deve ancora diventare il Pasolini che poi sarà conosciuto in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo attraverso le sue opere. Chi lo aveva letto si era sorpreso per la qualità della sua poesia, ma anche per l'uso che veniva fatto del dialetto friurale. Allora intanto benvenuti di nuovo, questa sera mi fa piacere vedere tante facce amiche tra il pubblico, perché io di loro sono quegli autori del libro che vi ho presentato tra poco. Bianco al tempo, bianche le abitazioni, bianchi i quaderni, bianchi i muri, bianco il marmo lucido delle scale dove i cuginetti rischiarono di scivolare, carichi di un enorme orso di peluche fatto rotolare ai miei piedi, il giorno del mio terzo compleanno. Ho studiato anche molto la percezione dell'estetica del libido su una donna o su un uomo, ad esempio, che cambia molto. Con l'opera d'arte, con la produzione, con il mondo dell'arte. Era primavera, il cielo azzurro interrotto da enormi nuvole bianche, il cordile della federazione russa degli scrittori proletari traboccava di gente. Via Varoschi era bloccata, la buona ci confluiva dalla crasma di Epeznia e in piazza Vazcaia una massa scherminata si rovesciava per le vie e piccoli laterali e i bordi a cavallo trattenevano a stento la ressa. Decine e decine di foto, decine apparecchi si levavano in alto sulle teste della gente. C'era chi si abbacciava dalle finestre, chi si sporgeva dai colmigioni, chi aveva portato i bambini e li teneva sulle spalle in modo che potessero vedere. C'era chi si arrampicava sui rami degli altri e chi stava grappato ai lampioni. Erano in migliaia persino sui tempi delle case e dai loro tranconi. Erano in migliaia persino sui tempi delle mitä gegenci Обicão e Illidan Erano in migliaia persino sui tempi delle습are che si scappa dausuari e anche le polite dalle più di affine il presto sanzionale e il nucleare Erano in migliaia persino sui tempi delle due del valore